direzione aspetta allora oggi facciamo un altro giretto sì e andiamo esattamente a sulle spiagge faremo questa strada percorso per arrivare alle spiagge del nord del cotillo e tempo permettendo cerchiamo di arrivare qua ecco siamo arrivati nel piccolo porto è bellissimo guarda ciao 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 ci siamo a Manahachiko è vicino a un po' di io è bellissimo allora lasciamo la playa dell'Oierro forza salutiamo i nostri telespettatori donne avventura nel mondo in forte ventura alla prossima meta corale ecco vamos ciao 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 anche questa è andata due paia di scarpe le mie e le sue zacc zacc